Sicuramente un problema di ulteriore di mobilità, diventa tutto più complicato, già lo è adesso. Via Maestri Comacini, il cartello è chiaro, la rivoluzione è imminente dal prossimo 18 febbraio, quindi da sabato entrano in vigore le nuove aree pedonali di Como, aree nelle quali sarà interdetta la circolazione a tutti i veicoli, compresi quelli a servizio dei disabili. Via Maestri Comacini, ma anche Piazza Duomo, Cavour e Volta, Via Caio Plinio, Piazza Grimoldi e Verdi, una fetta di Via Vittorio Emanuele II e di Via Cinque Giornate. Da qui non passa praticamente più nessuno, compresi i mezzi muniti di contrassegno per i disabili, i permessi rilasciati a Como sono 2.500. Una complicazione ulteriore per chi ogni giorno ha a che fare con barriere architettoniche e molte altre difficoltà, lo spiega una volontaria dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Soprattutto le persone, oltre che disabili, anziane che magari proprio hanno difficoltà di movimento, ma devono necessariamente uscire di casa per andare a fare visite in ospedale. Ogni richiesta verrà vagliata dalla polizia locale, ma considerando chi deve seguire delle terapie con una certa costanza, il problema degli spostamenti potrebbe essere molto serio. Con un contrassegno a bordo e la persona intestataria a bordo è difficile che qualcuno, eventualmente, se dovesse avere una multa o fare una contravvenzione, una volta fatto ricorso o richiesto l'annullamento non gli possa essere avvallato. Complicazioni in vista anche per i tassisti. I taxi, infatti, in quelle zone non potranno più accogliere o lasciare i clienti direttamente sull'uscio, ma soltanto entro i confini delle nuove aree pedonalizzate. Tra chi fa parte della categoria, non tutti sono preparati sulle novità, qualcuno spera verranno concesse delle deroghe, altri hanno già ben chiare le difficoltà dei clienti, in particolare i turisti con i bagagli che dovranno recarsi negli alberghi e gli anziani. Una buona maggior parte di anziani usa il taxi per queste cose, soprattutto per Mersa, commissioni in centro storico soprattutto, quindi sì, potrebbe essere un problema più per loro. Proprio arrivare in Duomo sarà più complicato. Oggi, infatti, via Maestre Comacini, ad esempio, è una soluzione comoda per chi, munito di pass, vuole partecipare ad una funzione in cattedrale.